A Firenze l'ex farmacista di San Casciano, Francesco Calamandrei, oggi 67enne, è stato assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di essere mandante degli ultimi quattro duplici delitti attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze. La sentenza è stata emessa questa mattina dal GUP, il giudice per l'udienza preliminare Silvio De Luca, al termine del processo con rito abbreviato, apertosi il 27 settembre di un anno fa. L'accusa aveva chiesto 30 anni. La sentenza è stata iniziata per l'accusa di Firenze.